L'altro film produzione è orgogliosa di presentarvi l'ultimo film del regista visionario Luis Nero, in un terrificante crescendo di allucinazioni, un viaggio all'interno delle paure dell'uomo, una misteriosa entità che ci spinge a fare del male. Un thriller psicologico impietante, un incubo dal quale non si può fuggire, anzi l'uomo scarafaggio, a gennaio al cinema.